Jessica Alves contro le sfere Sto molto felice con la trasformazione Certamente questa è la decisione giusta per me è la meglio cosa che sto facendo nella vita Forse sono una donna un po' troppo erotizzata un po' grande adesso prendo tanta medicina, ormoni c'è un trattamento che faccio ho fatto le seno, le fianche, le sedere Accetto anche il tuo cambiamento mi sembra un po' tardivo ma accetto anche questo quello che voglio dirti è ma ti sei guardata allo specchio follie e a queste follie sono colpevoli quelli che te le fanno fare antiprofessionale nessuno dottore viene una trasmissione televisiva così per dire che sono un monstro si si lo dico tu non hai la libertà tu non hai la libertà non ti conosco io concordo con tutto sulle tue scelte tu non puoi chiamarmi nel monstro tu non puoi Grazie a tutti.